La parmigiana La parmigiana Le frigo le tagliate e le melezzate e le mette sotto sale Le lascio un'oretta, poi le sciatte e le strizzi Preparo il succo di pomodoro Deve essere succo pomodoro Preparo mozzarella, un po' di condina, prosciutto E faccio nella teglia piccolina Per noi sarà un condotto E facciamo una fila di melezzano Un po' di salsa Formaggio, un po' di basilico Prosciutto, un po' di melezzano Finchè termina quanto melezzano fatto E faccio la prima